Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Bene, leggiamo di nuovo insieme Geremia 4.3 Dissodatevi un campo nuovo Poiché così parla il Signore alla gente di Giude e di Gerusalemme Dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine Cioè vuol dire preparatelo per la semina Così parla il Signore per seminare la parola di Dio Esempio, dove sei? Devi curare Dove devi seminare la parola? Dove puoi Cominci a seminare su dieci persone Vedi che quattro, cinque cominciano ad essere interessati A quello che tu dici Non ti fermare a uno che ti scoraggia E ti dice Ah no, ci sono tanti credenti scoraggiati Molti ordinano il Nuovo Testamento E dico sorella Prendine due, prendine cinque Così li distribuisci A qualche amico A qualche amica Oh, qui non li vuole nessuno Fratello mio Che scoraggiamento Sorella Qui fratello mio Da noi Nessuno li vuole Ma prendilo e glielo regali Ma no, ma qui da noi Tu non sai fratello mio Uno solo per me Basta Sorella Sorella Sorella, sorella, sorella Non trovo le parole per dirti Possibile in un paese dove abiti Due, tre mila abitanti Quattro mila abitanti Diecimila abitanti Non c'è un'altra persona Che gli regali il Nuovo Testamento E ti ringrazia Signore aiuta questa sorella Signore aiuta questo fratello Fagli comprendere Che ci sono otto miliardi di persone Che aspettano Aspettano qualcuno Che va vicino E gli parli del Signore Dissotati un campo nuovo Continua Persevera Semina Non ti fermare In Matteo Capitolo 13 Verso 11 Gesù dice Che noi siamo Delle persone speciali Perché lui ha operato Nella nostra vita Egli rispose loro Perché a voi è dato Di conoscere i misteri Del Regno dei Cieli Ma a loro Non è dato E oggi scopriamo I misteri del Regno dei Cieli Spiegato come lo spiega Gesù Tu credente Tu credente Hai delle facoltà spirituali Che Dio ha messo in te E tu li devi sviluppare Perché a chi più ha Più sarà dato Se no perdi pure Quello che hai Quello che hai Pensa per un attimo Vuoi avere di più O vuoi perdere Quello che hai Sempre Gesù E che parla In Matteo 25 29 Dice proprio così Leggiamolo insieme Dice Perché a voi è dato Di conoscere E a chiunque ha E a chiunque sarà dato Ed egli sovrabbonderà Ma a chi non ha Sarà tolto Anche quello che ha Vuoi perdere Quello che hai O vuoi averne di più Questo dipende da te Quanto mi piace il Signore Perché Lui parla In un modo così chiaro Che ci mette Le condizioni Per dire Scegli tu Vuoi perdere Anche quello che hai O vuoi di più Scegli La scelta E nelle tue mani Oltre alla vita eterna Noi credenti Abbiamo il favore di Dio Che ci accompagna E Gesù non si ferma Su questo argomento Leggiamo insieme In Marco 4 25 Poiché a chi ha Sarà dato E a chi non ha Sarà tolto Anche quello che ha Ancora lo ripete Nel verso 26 Nel verso 26 Ci parla Del regno di Dio Il regno dei cieli Ce lo trasferisce In un modo semplice Nel regno Che noi comprendiamo Leggiamo il verso 26 Diceva ancora Il regno di Dio È come un uomo Che getti il seme Nel terreno Noi dobbiamo seminare E Dio fa crescere E Dio fa crescere Ma la domanda è Se tu non semine Che cosa deve crescere? Crescono le erbe Crescono le spine Cresce tutto Basta guardare intorno Il regno dei cieli Il regno di Dio È come lo spiega Gesù In primo Corinzi 3 6 Dice così Che noi dobbiamo seminare E Dio fa crescere Io ho piantato Apollo ha annaffiato Ma Dio ha fatto crescere Ma questi non si fermavano Segui un poco La vita di Paolo La vita di Apollo La vita dei discepoli Del primo secolo I tracciati Della loro storia Del loro cammino Dei loro viaggi Delle loro Delle loro Missioni Ma non si fermavano Manco Se tu li volevi Fermare Non c'era Chi li poteva Fermare Ma che cosa? Era un altro mondo Era sempre Questo mondo Avevano dentro Il desiderio Di ricevere Di più Perché a chi più ha Più sarà dato A chi non ha Gli sarà tolto Pure quello che ha Diciamo che le condizioni Sono chiare Signore aiutate Perci questa mattina Leggiamo dal verso 5 Al verso 7 Così Inquadriamo Che cosa sta dicendo Qui La parola del Signore Che cos'è dunque Apollo Che cos'è dunque Paolo Siamo servitori Siamo servitori Per mezzo dei quali Voi avete creduto Così come il Signore Ha concesso a ciascuno Io ho piantato Apollo Annaffiato Ma Dio ha fatto Crescere Quindi colui che pianta E colui che annaffia Non sono nulla Chi è importante Nella situazione È Dio che fa crescere Però noi dobbiamo fare qualcosa Se noi non ci mettiamo in mente Che abbiamo qualcosa da fare E vogliamo la benedizione di Dio Se non seminiamo La benedizione non arriva Ma questa è un'antica legge della natura Dio l'ha stabilita L'ha stabilita nell'Eden E così ha continuato Ma se leggiamo in Genesi 4.000 anni fa Capitolo 26 Verso 12 Dio benedisse abbondantemente Isacco Abramo Giacobbe E vuole benedire anche te Guardiamo che fece Isacco Seminò in quel paese E quell'anno raccolse il centuplo Il Signore lo benedisse Voleva di più Mise in moto Tutte le sue risorse Se il seme non l'aveva Lo comprò I terreni erano incolti Erano duri Ma lui li seminò E Dio lo benedisse Vuoi la benedizione di Dio? Devi seminare Se no perdi pure Ma che condizioni precise Se mette il Signore Leggiamo insieme In Marco 4 dal verso 26 al verso 29 Che sei bello Signore Ma come mi piace Forse perché io sono un contadino Diceva ancora Poi nella spiga Poi nella spiga Il grano ben formato E quando il frutto è maturo Subito viene la falce Perché l'ora della mietitura è venuta Che corso di agricoltura ci fa Gesù Gesù sta parlando del regno di Dio Del regno dei Cieli Oh ma chissà come si fa lassù No Ci sta dicendo come si fa qui E come dobbiamo fare noi Come devi fare tu Ed io Non so se hai seguito il culto di ieri sera Quando abbiamo letto insieme Matteo 6, 25 Che stiamo molto preoccupati Gesù ha chiuso la parabola Con il verso 6, 33 Questo lo dobbiamo leggere però Perciò vi dico Non siate in ansia per la vostra vita Di che mangiate Di che vi vestite Di che berrete Né per il vostro corpo Di che vi vestirete Non è la vita più del nutrimento E il corpo più del vestito Ma ci dobbiamo preoccupare Di un'altra cosa Cercate prima Il regno di Dio E la sua giustizia E queste cose vi saranno date in più Nel verso 34 Leggiamo Non siate dunque in ansia per il domani Perché il domani si preoccuperà di se stesso Basta ciascun giorno il suo affanno E questo è il regno dei cieli E qui ci dice Che cosa dobbiamo fare Dobbiamo seminare Ci dobbiamo preoccupare Sai che molti non sanno Che vuol dire Essere impegnati Per il regno dei cieli Non sanno niente Il Signore sta parlando In linguaggio comprensibile Vuole che noi dobbiamo seminare Togliere le spine Dissodare i terreni Fare Fare spazio Per seminare la parola Più seminiamo Più raccogliamo Leggiamo il verso 24 Del capitolo 6 Del capitolo 4 di Marco Marco 4,24 Diceva loro ancora Badate a ciò che udite Con la misura con la quale misurate Sarete misurati pure voi E a voi sarà dato anche in più Quando semini Un chilo Raccogli per un chilo Cento chili Raccogli per cento chili Mille chili Raccogli per mille chili Questo è il regno dei cieli Troppo chiaro Troppo bello Troppo semplice Stai cercando di fare questo O no? È pericoloso se non lo fai Stai perdendo Quello che hai No ma io leggo Prego No Bisogna mettere insieme Più cose La nostra vita Non si svolge Soltanto mangiare E dormire Se noi viviamo Una vita di mangiare E dormire Non è vita È vegetazione Abbiamo bisogno Signore aiutaci I risultati Sono secondo Lo sforzo Impiegato E proporzionato A quanto terreno Dissodiamo E quando seme Seminiamo Noi abbiamo Appreso Le verità spirituali Noi parliamo Delle cose naturali Ma queste sono Verità spirituali Gesù lo ha detto Nel capitolo 13 di Matteo Verso 11 Il Signore dice Che le cose naturali Ci spiegano Quelle spirituali E qui lo dice Verso 11 E rispose loro Perché a voi È dato di conoscere I misteri Del regno Dei cieli Ma a loro Non è dato Noi abbiamo Appreso Le verità spirituali Questo esempio Naturale Ci chiarisce Come funziona E ti dico Che funziona Dobbiamo solo Scrupolosamente Applicarci Perché funziona Perché funziona Perché funziona Io Ci credo Profondamente Mi ci dedico Profondamente E mi muovo Con tutto il cuore In questa direzione Perché funziona Così era Quando facevamo I contadini E così Ancora oggi Se tu ti muovi E semini Funziona 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 Gloria Si è resa Al Signore In Marco 4 24 Leggiamo Come è semplice Perché Gesù Ci semplifica Un linguaggio Tranquillo Diceva loro ancora Badate a ciò Che udite Come ascoltiamo Ascoltare Vuol dire Fare Se noi non lo facciamo Vuol dire Che non ascoltiamo Con la misura Con la quale Misurate Sarete misurati Pure voi E a voi Sarà dato Anche di più Possiamo anche Leggere Il 25 Il 26 Così ci resta chiaro In mente Gesù ci dice Solo cose positive Che funzionano Poiché a chi ha Sarà dato E a chi non ha Sarà tolto Anche quello che ha Dice ancora Il regno di Dio È come un uomo Che getta il seme Nel terreno Il seme E la parola di Dio Lo dice il Signore Lui si muove In un modo Semplice Concentrato Ma chiaro Per non farci pensare Ma seme qua Che devo seminare Non so Che cosa devo fare In Luca Capitolo 8 Quando i discepoli Gli hanno chiesto Verso 11 Spiegaci la parabola Lui ha detto Che il seme È la parola di Dio Il seme È la parola di Dio Se non sai Che cosa devi seminare La parola di Dio La parola di Dio La parola di Dio Con la bocca Col cuore Con la vita Con la dedicazione Con la preghiera Con Come meglio puoi Cerca prima Le cose del regno di Dio Preoccupati Delle cose Del regno di Dio Se no Perdi pure Quello che hai Senza mezzi termini Perché io ti devo dire Che dice il Signore Gloria sia resa A te Signore Ora Noi credenti Abbiamo Questa responsabilità E Dio Che parla Attraverso Il profeta Geremia Capitolo 4 Verso 3 Perché Se no Pensiamo che ci dobbiamo mettere A coltivare Chissà che cosa Leggiamo insieme Poiché Così Parla il Signore Alla gente Di Giuda Di Gerusalemme E a noi Oggi Dissodatevi Un campo Nuovo E non seminate Tra le spine Così parla Il Signore È un ordine Di Dio E Gesù Dice A noi In Matteo 13 11 Ora Qui parla Il Padre Dove leggiamo Adesso Matteo 13 11 Parla Il Figlio E sono tutti e due Che parlano Gesù Egli rispose Perché a voi È dato di conoscere I misteri Del Regno Dei Cieli Ma a loro No Gesù Risponde A loro E risponde A noi Parla Ma a tutti noi Credenti Che dobbiamo Metterci Sull'attento Quando parla Dio Qui parla Dio Parla Gesù Quando è venuto In missione Sulla terra Quando è venuto In altra forma Dio In altra forma Come uomo Vero Dio E vero uomo Ha detto Che noi Dobbiamo Siamo Delle persone Privilegiate Ci dobbiamo Mettere Sull'attento E ascoltare E fare Amen Amen Vuol dire Così sia Sei d'accordo E se sei d'accordo Ci dobbiamo Mettere All'opera Leggiamo Il verso 12 E anche Questo è importante Quello che dice Gesù Quello è Il sommo Della verità La verità Perfetto Verso 12 Perché a chiunque Ha Sarà dato E sarà Nell'abbondanza Ma a chiunque Non ha Sarà tolto Anche quello che ha Quando dice Tolto Vuol dire Che abbiamo Ricevuto Delle cose Che se noi Non le Utilizziamo Se li prende Se li prende Un'altra volta Non è lui Che se li prende Il nostro Disinteressamento Fanno Atrofizzare Queste cose Nella nostra vita E non Non li vediamo E non li vediamo Più utili Diriggiamo La nostra Attenzione Verso Altre Direzioni Che non Sono quelle Del regno Di Dio E di conseguenza Cominciamo a servire All'altro Padrone Anziché Servire A Dio Serviamo A Mammona Però nella mente Nostra Pensiamo Che serviamo Dio Con la bocca Diciamo una cosa Ma con i fatti Facciamo un'altra cosa E di oggi Ce ne sono molti Nelle chiese Che fanno così Il Signore Mi ha chiamato Io ho una grande Chiamata Però Stanno sempre A non andare Sul posto Dove Dio Li ha chiamati Sono come Quella sorella Che non andava In chiesa Quando c'era La preghiera Diceva Fratelli Io non sono venuta Però In ispirito Ero in mezzo A voi Non andava mai Alla preghiera Era sempre In ispirito In mezzo A loro Nella chiesa Il pastore Disse un giorno Sorella Non mandare Solo lo spirito A pregare Con noi Qualche volta Vieni anche tu Molti credenti Parlano di fare La volontà Di Dio Ma fanno Un'altra cosa Se non la fai Non la stai facendo Non ti illudere Signore aiutaci Chi vuole di più Riceve di più Non perdiamo il filo Leggiamo il verso 12 Un'altra volta La domanda Che vuoi di più Perché A chiunque ha Sarà dato E sarà nell'abbondanza Ma chiunque non ha Sarà tolto Anche quello Che ha Cioè Ma più chiaro di così Si muore Gesù parla La verità Perfetta Vuoi di più Devi fare di più Sei interessato Sei interessato No ma io poi Farò No Perdi pure Quello che hai Gesù mette Delle condizioni Che non possiamo Pensare Come vogliamo Noi Lui ci dice La verità Ed è così Chi vuole di più Sei interessato Di vedere I tuoi salvati I tuoi amici Il tuo vicinato Vuoi di più Che conoscano il Signore Ti devi dare da fare No ma quello Poi la salvezza La fa Dio Lo sappiamo Che la salvezza La fa Dio Giacobbe sapeva Che Dio Faceva crescere Dio benediceva Il seme Però lui Seminava Sono due cose Che camminano Abbinate Sore Non ti illudere Se semini di più Ne vedi di più Se semini di meno Ne vedi di meno Se non semini Perdi pure Quello che hai Non ci girare intorno Io non so Come lo devo dire Io sono profondamente Convinto Che ogni giorno Abbandono sempre di più Le altre cose Perché Realmente O siamo O non siamo O seguiamo il Signore O non lo seguiamo Perché se no Non siamo Né carne Né pesce Non beneficiamo Di nulla Se vuoi vedere Se vuoi vedere i tuoi salvati I tuoi amici Ne vedi di più Tu Sei interessato A vedere Persone salvate O no Se sei interessato Ti ci devi dedicare Se non ti ci dedichi Non sei interessato A me A me puoi dire Tutto quello che vuoi Puoi convincere Tutte le persone Intorno a te Però la verità È questa Che se tu Non ti ci immergi Con tutta La tua volontà E sprofondi Proprio Da arrivare Quasi all'esaurimento Ma se serve il Signore Non ti esaurisci mai 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 Perché è l'unico campo Che se mantieni Un giusto rapporto Di comunione Con il Signore Lo Spirito Santo Ti rinfresca Ti senti sempre Fresco come un fiore Che si alimenta Nel buon terreno Tanto che Gesù Che la parola di Dio Dice Che fiumi d'acqua viva Sgorgano dal nostro seno E pensa Se possiamo appassare I credenti Che si alimentano Di Gesù E seguono Gesù E camminano con Gesù E seminano la parola Possono mai Loro sono loro Sorgenti Come fanno A prosciugarsi Ne vedi sempre di più Sei interessato Sei interessato Ti dai da fare Se no Perdi tutto Anche Quello Che hai Che cosa vuoi fare Dalle tue risposte Dalle tue risposte Dal tuo impegno Trovi le risposte E il Signore che parla Ci ha spiegato come funziona Il regno di Dio Come apostolo Portavoce del Signore Dice così Dice così Portavoce 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 dei credenti Dice Noi non siamo di quelli Che ci tiriamo indietro In ebrei Capitolo 10 Verso 39 I portavoci di Dio Sono un poco come Quando è che Voglio dire C'è un sindacato C'è un sindacato Che fa da rappresentante Per 4 milioni di Sindacati Operai Che fanno parte Del suo gruppo Quel capo Dei sindacati Quando parla Col governo Parla per tutti E gli altri Sono D'accordo così In questo caso Questo apostolo Che credo sia L'apostolo Paolo C'è un punto interrogativo Però Credo che sia L'apostolo Paolo Solo che non ci ha messo Chi era che scriveva Perché gli ebrei Non lo digerivano molto Nell'epistola agli ebrei Nel capitolo 10 Verso 39 Dice Ora Noi Non siamo di quelli Che si tirano indietro A loro perdizione Questo apostolo Aveva ben chiaro Che cosa E' il pericolo Di tirarsi indietro Tirarsi indietro Vuol dire Non solo perdere Quello che abbiamo Ma perdiamo La salvezza Lascia perdere Quelli che dicono Che una volta salvati Sempre salvati Anche quando nasce Un bambino Non muore Se si nutre Se si esercita Se vive la sua vita Se vive la sua vita Secondo alcuni parametri Se non come è nato Così muore Finiamo di leggere Questo verso Ma di quelli Che hanno fede Per ottenere La vita Perché Gesù ha detto In Matteo 13 12 Che perdiamo Tutto Leggiamo Perché a chiunque Ha sarà dato E sarà Nell'abbondanza Ma a chiunque Non ha Sarà tolto Anche Quello che ha Signore Aiutaci Questa mattina E perdiamo Anche la nostra Anima Perché noi Conosciamo La volontà Del Signore Si restringe La maglia Sorella Fratello La ipergrazia Non funziona Perché Gesù Parla Con una Chiarezza E' eccezionale In Luca 12 47 Dice così Quel servo Che ha Conosciuto La volontà Del suo Padrone Non ha Preparato Né fatto Secondo La sua Volontà Riceverà Molte Percosse Signore Aiutaci Noi Che conosciamo Il Signore E sappiamo La sua Volontà Siamo Più Responsabili Perché Il Signore Ci ha Dato La Conoscenza E molto È molto Di più Leggiamo Il verso 48 Ma colui Che non L'ha Conosciuta E ha Fatto Cose Degne Di Percosse Ne Riceverà Poche A chi Molto È Stato Dato Molto Sarà Richiesto E a Chi Molto È Stato Affidato Tanto Più Si Richiederà E Richiede Qui Qui Notiamo Che Nell'inferno Come Nel Cielo Ci sono Gradi Diversi Di Punizione O Di Ricompensa In Alcune Parti Paolo Parla Della Ricompensa Che Avremo Nei Cieli Ora Quando Gesù Ci Spiega Le cose Del Regno Di Dio Prende Le cose Della Terra E Ce Spiega Ed È Proprio Così Perché I Principi Sulla Terra Sono Una Riproduzione Di Alcuni Principi Che Sono Stati Travasati Dal Signore Qui Sul Pianeta Terra E Se Leggiamo In Marco 6 11 Ci Diventa Ancora Più Chiaro E Se In Qualche Luogo Non Vi Ricevono Né Vi Ascoltano Andando Via Scuotetevi La Polvere Dai Piedi Come Testimonianza Contro Di Loro Nel Verso 12 Dice Perché Quella Città Leggiamolo Insieme No C'è A una Parte Dove C'è Scritto Perché In Quella Città Sarà Trattata Peggio Della Città Di Sodoma E Di Gomorra C'è Un Errore Che Non Ho Messo Il Verso Ora È Tutto Chiaro Perciò Noi Dobbiamo Metterci All'opera Se Vogliamo Di Più Dobbiamo Fare Di Più Se No Perdiamo Anche Quello Che Abbiamo Di Conseguenza Gesù Parla Molto Chiaro Infatti Come Abbiamo Letto In Geremia 4 3 Così Parla Il Signore All'agenda Di Giuda Dissodatevi Un Campo Nuovo E Non Seminate Tra Le Spine Così Parla Il Signore Gesù Dove Dice In Matteo 13 11 12 Perché A voi È stato Dato Di Conoscere I Misteri Del Regno Dei Cieli Ma A loro No E A chiunque Ha Sarà Dato Ed Egli Sovrabbonderà Ma Chi Non Ha Sarà Tolto Anche Quello Che Ha Ora Vogliamo Guardare Insieme Come Si Fa Per Dissodare Andiamo Sul Lato Pratico C'è un verso che mi sta molto a cuore Un po' Di tempo A questa Parte Ed è Il verso Capitolo 13 Degli Ebrei Nel Verso 3 Dove parla Dei Carcerati Che ci Sono 60 Mila Fratelli O Possono Diventare Fratelli Ed è Un campo Da Dissodare Come si Fa per Dissodarlo Leggiamo Questo Verso Ricordatevi Dei Carcerati Come se Foste In Carcere Con Loro E Di Quelli Che Sono Maltrattati Come se Anche Voi Lo Foste Ora Come possiamo Fare Per fare Qualcosa Per Dissodare Un campo Ora Pensa Per un Attimo Ci sono Tanti Che il Signore Sta Salvando Nel Carcere Ma Ci sono Dei Principi Da Se Se Tu Hai Un Parente Nel Carcere E Desideri Che Conosca Il Signore Per Dissodare Quel Campo Devi Dire Al Tuo Amico Carcerato Che Io Saluto Vi Saluto Fratelli Sorelle Nel Carcere Dove Vi Trovate Grazie Per Quello Che Il Signore Sta Facendo In Mezzo A Voi Però Noi Vi Vogliamo Essere Di Aiuto Tu Parente Di Qualche Carcerato Di Ai Carcerati Che Facciano La Domanda Di Volere Essere Visitati Da Un Pastore Evangelico Che Vogliono Una Consulenza Spirituale La Legge Permette Che Possono Chiedere Un Pastore Per Consulenza Spirituale Però Lo Devono Chiedere Noi Glielo Dobbiamo Dire Noi Che Siamo Fuori Dobbiamo Dire Al Pastore Di Andare A Visitare Il Parente Che Ha Fatto Domanda Di Volere Essere Visitato Se No Il Direttore Non Non Entrare Il Pastore E Se Il Carcerato Non Fa La Domanda Il Pastore Non Può Entrare Ecco No Noi Noi Dobbiamo Togliere Gli Ostacoli Per Togliere Gli Ostacoli Dobbiamo Seguire Alcuni Principi Se Se Un Parente Nel Carcere Di Che Faccia Domanda Di Volere Un Pastore Evangelico Poi Tu Che Sei Fuori Di Al Pastore Di Andare Primo Passo Secondo Passo Tu Che Sei Nel Carcere Se Desideri Essere Visitato Da Un Pastore Evangelico Piglia La Penna La Carta Fai La Domandina E Passala Al Direttore Del Carcere Dicendo Io Voglio Essere Visitato Da Un Pastore Evangelico Ecco Dissodatevi Un Campo Vuol Dire Mettersi All'opera Per Preparare Il Terreno Per Seminare La Parola Noi Abbiamo I Nuovi Testamenti Abbiamo La Bibbia Abbiamo la Bibbia Perché 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 Ci sono Carcere Di 1500 Che Serviamo Ma Il Signore Provvede Però Noi Dobbiamo Dissodare Il Terreno Nel Senso Che Dobbiamo Prepararlo Se Se Noi Non Ci Muoviamo Così Gesù Dice In Matteo 7 7 Ciò che Dice Gesù Serve Anche Per Muoverci Nel Naturale Chiedete Vi Sarà Dato Cercate Troverete Bussate Vi Sarà Aperto Noi Dobbiamo Chiedere Al Signore Ma Dobbiamo Anche Chiedere Alle Autorità Che Ci Diano Il Permesso Perciò Carcerato Sorella Carcerata Amico Carcerato Devi Fare La Domanda Tu Che Sei Fuori Glielo Devi Dire Al Carcerato Perché Molti Non Mi Sentono Perché In Qualche Carcere Non Fanno Accendere La Televisione 245 Perché Non So Comunque Questa È Assistenza Sociale Dovrebbero Farla Accendere Però I Direttori Comandano Loro Ma Noi Dobbiamo Aiutare Allora Dobbiamo Fare La Nostra Parte Devi Chiedere A Dio E Alle Autorità Noi Li Abbiamo I Nuovi Testamenti Ma Voi Li Dovete Chiedere Dovete Dire Al Pastore Che Va Nelle Carcere Che Ci Chieda I Nuovi Testamenti Noi Gli Li Mandiamo Perché Ci Sono I Fratelli Amici Desiderosi Che Li Ordinano E Noi Gli Li Mandiamo Facciamo Da Tramite Grazie Siamo Siamo Resi A Dio Però Non Dobbiamo Fare Inceppare Le cose Pensiamo Che Tutto Va Da Sere Per Dissotare Un Terreno Ci Vuole L'impegno La Serietà La Dedicazione Perciò Tu Carcerato Devi Fare La Domanda Tu Che Sei Fuori Glielo Devi Dire Devi Parlare Col Pastore Di Fare Andare Il Pastore Devi Collaborare Perché Così Facendo Il Signore Opera Perché Gesù Cristo È Il Migliore Antimafia Che Esiste Nell'universo Lui Veramente Cambia Le Persone Tanti Delinquenti Sono Diventati Grandi Servitori Grandi Grandi Corrotti Sono Diventati Grandi Santi Di Dio Dio Li Cambia Ma Noi Dobbiamo Fare La Nostra Parte Se tu senti Chiedi Chiedi a noi Di mandarli Mandaci L'indirizzo Del Pastore Questo Vuol dire Dissodare Un Campo Togliamo Gli Ostacoli Facciamo Le domande La Legge C'è Ma Noi Dobbiamo Fare La Domanda Dobbiamo Muoverci Il Direttore Non Può Fare Entrare Il Pastore Se tu Non Fai La Domanda Amico Mio Il Pastore Non Può Andare Non Può Entrare Se tu Non Dici Che Lo Vuoi Ecco Noi Dobbiamo Dissodare Questo Campo Questo È Un Campo Speciale Dove C'è Bisogno Di Portare La Parola Del Signore Però Dobbiamo Collaborare Tutti Non È Un Campo Da Poco È Un Campo Di Sessantamila Persone Che Il Signore Vuole Penetrare Con La Sua Potenza Infatti Ce ne Sono Tanti Di Carceri Che Signore Sta Operando Potentemente Che Gli Stessi Carcerati Fanno Da Tramite Per Portare Il Vangelo Ad Altri Che Sono Dentro Ma Noi Che Siamo Fuori Dobbiamo Collaborare Con Loro Se Non Glielo Dici Dobbiamo Togliere Gli Ostacoli La Semina Va Fatta Così Dobbiamo Essere Interessati Dobbiamo Noi Che Siamo Fuori Preoccuparci Come Se Fossimo Dentro Incatenati Nel Modo Che Non Possiamo Fare Più Di Tanto Noi Dobbiamo Fare La Nostra Parte Infatti Questo Verso Dice Proprio Così Rileggiamo Ebrei 13 3 Dice Come Se Voi Foste Là Pensa Per Un Attimo Essere Là Dentro Senza Un Telefono Senza La Possibilità In Quattro Mura Che Non Si Può Muovere Noi Che Siamo Fuori Dobbiamo Fare La Nostra Parte Perché Il Signore Vuole Operare E Così Dobbiamo Fare Anche Nel Vicinato Dove Noi Siamo Se No Perdiamo Quello Che Abbiamo Signore Aiutaci Questo È Un Campo Grandissimo Ci Sono Tanti Pastori Che Sono Davanti Alla Porta Che Vogliono Entrare Ma Ma se Tu Che Sei Dentro Non Fai La Domanda Il Direttore Non Li Fa Entrare Perché Vogliono Vedere Una Domanda Fatta Ci Sono Centinaia Che Aspettano Che Qualcuno Vada Ma Devi Fare La Domanda Noi Che Siamo Fuori Dobbiamo Chiamare Il Pastore Che Ci Vada Perché C'è Una Distanza Da Completare Dio Aprirà Una Via Dove Non C'è Però Noi Dobbiamo Fare La Nostra Parte Tanti Pastori Possono Arrivare Fino Alla Porta Del Carcere Ma Non Possono Entrare Se Tu Che Sei Dentro Non Hai Fatto La Domanda E Tanti Carcerati Non Lo Sanno Tu Che Sei Fuori Quando Lo Vai A Visitare Glielo Devi Dire Fai Una Domanda Che Faccio Venire Del Pastore E Il Pastore Deve Portare La Parola Del Signore Fai Una Domanda A Noi Che Glieli Mandiamo Al Pastore In Modo Che Si Crea Un Circuito Dove Tutti Ci Muoviamo E Questo Grande Campo Di Sessantamila Anime Viene Così Invaso Dalla Parola Del Signore Facendo In Questo Modo Vediamo Come Dio Opera Trasforma Le Persone Gesù Cristo Fa Più Di Tutti I Giudici Antimafia Perché Trasforma Il Cuore Dell'Uomo Li Fa Diventare Santi E Noi Chiesa Dobbiamo Muoverci In Questo Modo E Vediamo Ci Sono Dei Carceri Nell' Latina Dove Sono Diventate Delle Grandi Chiese Dove Le Persone Vengono Trasformate Quelli Che Sono Dentro E I Parenti Che Li Vanno A Trovare A Dio Sia La Gloria Abbiamo Anche Dei Programmi Di Anime Carceri Dove Sono Entrati In Festa Perché Lo Spirito Santo Ha Operato E Lì Hanno Il Tempo Di Poter Leggere Di Poter Pregare Ma Noi Aiutiamoli E Come dice Il Signore Questo Giorno Dissodiamoci Un campo Nuovo E Seminiamo 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 La Possibilità Che Abbiamo Molti Ringraziano Dio Per Questo Canale Perché Noi Siamo Sempre Presenti Il Pastore A volte Può Entrare A volte No Ma Noi Cerchiamo Di Collaborare Perché Tutti Insieme Così Possiamo Vedere Anime Salvate Ci Sono Delle Testimonianze Bellissime Di come Il Signore Salva E Libera E Carri Il cuore Degli uomini Delle donne A Dio Sia la gloria Ebbene Vogliamo Pregare Che il Signore Ci metta Nel cuore Di cominciare A togliere Gli ostacoli Per lasciare Entrare La parola Del Signore E Il Signore Che opera Perché Lo Spirito Santo È presente E Quando Un cuore Si apre A Gesù Gesù Salva Guarisce Battezza Libera Continua Ad operare In un modo potente Vogliamo ringraziare Il Signore Insieme Preghiamo Signore Fa che La Tua Parola Possa Eserci Di guida Per portare Avanti L'opera Che Tu Desideri Che noi Portiamo Di evangelizzazione E le anime Che hanno Bisogno Di Te Facci guardare Intorno Tu che apri La via Dove la via Non c'è Apri una via Per la sorella Per il fratello Per l'amico Per l'amica Che possiamo Svolgere il nostro Compito Con passione Per ricevere Da Te Il grande premio Non solo Della salvezza Ma anche Di vedere Anime salvate Che Sono la nostra Gioia Te lo chiediamo Insieme Nel nome Di Gesù Amen 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 Hai ascoltato Un messaggio Registrato In diretta Continua A seguirci Sui nostri Canali social O sul sito www.paroledivita.org Grazie Grazie a tutti.